Il nostro è un gruppo numeroso, il gruppo più importante del Senato, è un gruppo che discute molto, che ha molto dibattito. Io sottolineo che quel documento prende atto con grande soddisfazione dei miglioramenti che sono stati introdotti alla delega lavoro, sia nella discussione al Senato che nella discussione alla Camera. Questo mi sembra un dato molto importante, come è molto importante che tutti i 27 voteranno a favore del provvedimento, voteranno anche con il voto di fiducia e questo mi sembra che sia il dato politico più rilevante.